Siamo tifosissimi del Napoli e Osimen, quest'anno sta facendo veramente un macello in campionato, in Champions League, è nata questa idea di fare un caffè a semifreddo dedicato al nostro bomber. È un semplice caffè espresso amaro con della panna al cioccolato, con della salsa a cioccolato, poi porta sopra questi ricci di cioccolato bianco decorati con dello spray alimentare di colore giallo come i capelli del bomber e poi porta quest'ostia, che è la maschera inconfondibile di Osimen, commestibile ovviamente. Quanto successo sta avendo tra i vostri clienti? Abbastanza, è molto richiesto. Diciamo che ultimamente in questi giorni è venuto un po' a mancare Osimen, però da quando abbiamo creato questo caffè è abbastanza richiesto. Quanto manca Osimen a Napoli? Tantissimo in questo periodo, manca veramente tanto. Speriamo che al ritorno si faccia godere come ha sempre fatto in campionato. L'abbandoniamo questa scaramanzia in campionato? No, no, mi dispiace, non l'abbandoniamo. Almeno parlo per me, non l'abbandono questa scaramanzia. Manca ancora un po', manca ancora un po'. Incrociamo le dita. Scusate. No, no.